Anche in Italia, alla fine dell'Ottocento, ci sono donne che lavorano e cantano, hanno i piedi immersi nell'acqua e cantano, si lamentano delle zanzare e cantano, hanno salari bassissimi e cantano, hanno la schiena curva per dodici ore al giorno e cantano. Sono le mondine. Forse riconoscerete questo motivo reso famoso dalla Resistenza, ma cantato inizialmente e tradizionalmente nei campi del Vercellese o di Novara o di Pavia, in Emilia o in Veneto, dove le mondine da aprile a giugno invadevano i campi allagati. Alla mattina, appena alzate, in risaia ci tocca andare e fra gli insetti e le zanzare un dur lavoro ci tocca fare. Il capo è in piedi col suo bastone e noi curve a lavorare. Oh mamma mia, che tormento, io ti invoco ogni domani. Ma verrà un giorno che tutte quante... Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 ma verrà un giorno che tutte quante... Lavoreremo in libertà... Ma verrà un giorno che tutte quante... Lavoreremo in libertà... Lavoreremo in libertà... Grazie.